L'amore non è ossessione, non è passione, come la si è voluta interpretare in questi decenni, ma è una capacità quasi altruistica della relazione con l'altro, mentre quello che viene bypassato, cioè la comunicazione che invece il soggetto riceve, che l'amore comunque deve essere nevrotico, deve essere ossessivo. Molto spesso le donne si fidano esageratamente di vedere nell'ossessione una forma di sentimento, la gelosia come interesse affettivo, questi sono chiaramente dei risultati culturali sbagliati e inesatti. Bisogna dare una visione dell'amore come forma comunque di capacità di gestione del sentimento verso l'alto, che soprattutto è rispetto per la diversità. Il femminicidio diventa la parte più evidente di un'incapacità dei soggetti che devono vivere una separazione, un lutto, anche una frustrazione, di trovare degli strumenti e di elaborarlo in modo alternativo. Al soggetto che patologicizza la sua ferita emotiva non gli interessa andare in carcere o avere il braccialetto o comunque essere allontanato dal luogo della propria abitazione, perché la sua idea è comunque eliminare il luogo dell'angoscia e dove si forma comunque l'ossessione. Quindi per questo la prevenzione deve agire da lontano, ci deve essere comunque un'educazione all'emotività e all'affettività che possa far sì che perlomeno si tenti una fase in cui il soggetto crescendo ha delle alternative, degli strumenti per far fronte ad esempio alla perdita di un amore. Quindi molto spesso l'amore ossessivo è una fonte di malattia ma è anche il risultato di una solitudine sociale con cui noi dobbiamo fare i conti. Quando il danno è stato fatto ormai c'è poco da rimediare, il problema quindi è prevenire. Gli strumenti tecnologici e anche giuridici per prevenire la violenza sulle donne ci sono. Penso per esempio al braccialetto elettronico che consente di individuare la posizione dell'eventuale persecutore in rapporto alla situazione, alla posizione dell'eventuale vittima e quindi di evitare che si avvicinino. Questo è possibile, la legge lo consente. A Venezia abbiamo già iniziato ad applicarlo e speriamo che questa sia una delle strade giuste. La seconda è quella di cui si è parlato in questi giorni, cioè che quando i magistrati non sono abbastanza sensibili a questo problema, come è accaduto per Messina, poi vengono chiamati a risponderne. Ora, a parte che occorre vedere gli atti e occorre aspettare che queste decisioni diventino definitive, se si dovesse accertare che ci sono state negligenze o addirittura colpevoli inerzie da parte dei magistrati, l'idea di punirli sul portafoglio con un risarcimento pecuniario è abbastanza bizzarra perché siamo tutti assicurati. Il magistrato che sia negligente, inetto o, peggio ancora, che non sappia fare il suo mestiere deve essere colpito sulla carriera, al limite deve essere rimosso. Oggi nel mio intervento penso di sintetizzare l'importanza del controllo, essendo io un pubblico ufficiale della Regione Veneto, che mi viene data anche dal Ministero, di verificare effettivamente come vengono utilizzati tutti i fondi per le case rifugio e quindi per le donne, ed occuparmi soprattutto dell'inclusione nel lavoro di queste donne fragili che hanno subito tante violenze e che hanno bisogno di reinserimento, quindi un rapporto tra le imprese e i centri dove le donne vengono accolte per consentire alle imprese di avere delle agevolazioni, questo è quello che chiederò. Ci vogliono agevolazioni per l'inserimento e per la possibilità di ricreare un'autonomia per tutte le donne che si trovano in grande difficoltà. Un'autonomia significa anche avere una casa propria e quindi passare dalla casa rifugio ad una casa personale dove potranno ricostruirsi una vita con una indipendenza economica.